Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta mousse alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Ingredienti sono biscotti al cacao, burro fuso, ricotta fresca, zucchero, panna fresca, uova, vanillina, Nutella e fecola di patate. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 15 secondi a velocità 7, riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere il burro ed acceniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Il composto è pronto, versiamolo su una tortiera rivestita con carta da forno e riponiamolo in frigo. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, adesso prepareremo la crema. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la ricotta e la panna fresca ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la Nutella Aggiungere il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere il bimbi per due minuti a velocità 3. La crema è pronta, versarla sulla base di biscotti. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per un'ora. Una volta cotta, spegnere il forno, aprire leggermente lo sportello e lasciare il dolce nel forno caldo spento per un'altra ora. La torta è cotta, ricopriamo la superficie con Nutella e decoriamo con zuccherini colorati. Torta mousse alla Nutella Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.